Si terrà domani alle ore 18 presso l'Aula Consiliare di Giffoni 6 Casali il convegno di presentazione del progetto formativo CAM. All'incontro prenderanno parte Giampiero Fortunato, presidente dell'Associazione Focus, Giuseppe Pantuliano, project leader Intesa San Paolo Formazione, Pietro Miragli, amministratore delegato Intesa San Paolo Formazione, Rossella Palo, consigliere delegata alle politiche giovanili, Francesco Munno, sindaco di Giffoni 6 Casali e Chiara Marciani, assessore alla formazione e alle pari opportunità della regione Campania. Il progetto rientra nell'ambito di benessere giovani, iniziativa regionale che ha visto il comune di Giffoni 6 Casali essere destinatario di un finanziamento di 80.000 euro. Numerosi gli obiettivi di CAM. Dar vita ad un incubatore di start-up di imprese incentrato su attività di marketing territoriale, far acquisire le metodologie e le tecniche del linguaggio mediatico e della narrazione filmica per valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale e artistico del territorio, generare un modello di country experience per incrementare l'interesse turistico verso il comune di Giffoni 6 Casali.